Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Roma code tra Aglio e Calenzano per traffico intenso. Sulla Fipilì in direzione Mare per lavori rallentamenti tra Empoli Ovest e San Miniato Basso. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. A causa di due frane sulla statale 12 della Betone e del Brennero chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Borgo Ammozzano e sulla statale 64 Porrettana chiuso sempre in entrambe le direzioni il tratto tra Pavana e Ponte dell'Aventurina. A Firenze il servizio della linea 2 della tramvia resterà gratuito fino al 24 di febbraio. Buonosti Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! A Firenze il servizio dell'Aventurina.